Che consigli da resti a un profano che si vuole avvicinare per la prima volta ad un marketing online? Allora, la prima, forse anche più banale cosa, è quella di fare esperienza, perché questo è un settore dove sì, quindi io stesso ho iniziato, quando era nel 2002, ho iniziato con un corso sulla SEO e poi dopo sono andato avanti per esperienza. Quindi, ok, dopo un corso iniziale mettete le mani in pasta, ci sono vari modi per farlo, anche gratuitamente, se all'inizio non volete rischiare di bruciarvi, cosa molto semplice, molto facile che succeda, insomma, anche perché Google non perdona su alcune cose. E si possono fare, per esempio, si può lavorare per una Olus, ad esempio, offrirsi di fare dei lavori gratuitamente, oppure tentare di fare qualche stage in qualche web agency un po' strutturata, o same agency ancora meglio, oppure ancora ci sono vari portali online dove io posso vendermi ad ora, vari portali internazionali, tipo, che so, People Per Hour o Upwork.com, e lì provo a fare le prime esperienze. Dopodiché, ogni tanto partecipare a qualche evento di settore, perché serve per capire più o meno quelli di cui ti puoi fidare, non altro, e ad avere gli spunti giusti sulle cose giuste, e tanta pratica, perché questo è un settore dove, se non metti le mani sul meccanismo, non capisci effettivamente cosa funziona e non funziona. Quindi uno ti può indicare la strada, ti può indicare la porta, ma poi la strada la devi fare con le tue gambe, perché altrimenti non si riesce ad ottenere i risultati di un certo rilievo, insomma. Grazie mille. Prego. Un proseguo. Grazie. Buon pranzo. Perfetto. Allora, ma tanto adesso ripasso. Eeeh, la rifacciamo? Sì.